Il fenomeno delle cule vuote colpisce anche Caltanissetta come il resto d'Italia. Nel capoluogo nistano si fanno sempre meno figli. I dati in riferimento alla struttura della popolazione e indicatori demografici di Caltanissetta negli ultimi anni elaborati da tutta Italia.it sui dati Istat raccontano di una città che subisce l'invecchiamento demografico e il sorpasso delle morti sulle nascite. Guardando all'indice di vecchiaia che rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione il rapporto percentuale tra il numero degli oltre 65 anni e il numero dei giovani fino a 14 anni. Nel 2021 l'indice di vecchiaia per il comune di Caltanissetta dice che ci sono 176,2 anziani ogni 100 giovani. Una decrescita infelice se si pensa al fatto che si è passati dall'8.9 al 6.5 in soli 10 anni. Altro importante fattore è quello di dipendenza strutturale che rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva ovvero da 0 a 14 anni e 65 anni ed oltre su quella attiva dai 15 ai 64 anni. Secondo i dati a Caltanissetta nel 2021 ci sono 55,5 individui a carico ogni 100 persone che lavorano. Anche l'indice di ricambio della popolazione attiva a Caltanissetta nel 2021 è 131,1 il che significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana.